Qual è il numero mancante? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 è il numero mancante, 107, 108, 109, 110 lo seguono. Quindi il numero mancante è 106, che viene dopo 105 e prima di 107. Andiamo avanti. Anche qui, qual è il numero mancante? 100, 101 e poi seguono 102, 103, 104, 105, 106 e così via. E' divertente. Qui invece ci chiedono quale numero intero viene prima di 105. Quale numero intero viene prima di 5? Beh, il 4. Quindi cosa viene prima di 105? Certamente sarà il 104. Se partiamo da 100, infatti abbiamo 101, 102, 103, 104 e poi 105. Adesso vogliono che scopriamo qual è il numero che manca. Vediamo che stanno contando da 1 fino a 10, poi da 11 a 20. Insomma, fino a 120. Però qui manca un numero. Questo è il numero che è più grande di 1 di 118 e più piccolo di 1 di 120. Se contiamo, 111, 112, 103, 104, 105, 106, 107, 118, 119 e poi 120. 19 viene prima di 20. Quindi 119 verrà prima di 120. 19 viene dopo 18. Quindi il numero dopo 118 sarà 119. Verifichiamo la nostra risposta. Facciamo un altro esercizio. Qual è il numero mancante? Allora, dopo il 7 viene subito dopo l'8, quindi 108 e poi 109, 110. Grazie. 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 Grazie.